Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo ancora con la pagina giudiziaria perché la procura di Campobasso ha aperto un fascicolo sull'assunzione, a tempo determinato ma prorogabile, di diversi amministratori locali e sindaci nell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca ARSAP. Le indagini al momento contro i gnoti sono condotte dal PM Nicola D'Angelo. Ce ne parla in apertura Giovanni Minicozzi. Procedure discutibili, una tempistica fenomenale e le indiscrezioni sulla solita lista di beneficiari amici che lasciano tanti dubbi. Questi sono gli ingredienti dell'elenco dei nuovi contrattualizzati con l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca finito nel mirino della magistratura. Il sostituto procuratore Nicola D'Angelo ha aperto un fascicolo per accertare la regolarità o meno del concorsone che ha visto l'assunzione di molteplici figure, alcune delle quali ricoprono il ruolo di amministratori e sindaci in diversi comuni molisani. Si tratta del fascicolo numero 2451 del 2016, al momento ancora a carico di persone ignote, per le quali Nicola D'Angelo ha chiesto la proroga delle indagini. La storia del concorsone era già stata oggetto di critiche da parte del mondo politico, imprenditoriale e mediatico, prima fra tutti Danilo Leva, Michele Iorio e il Movimento 5 Stelle, e parte dal 26 giugno 2015, quando il commissario straordinario Arsarp pubblica un decreto che prevede la formazione di un elenco, short list di esperti da utilizzare per l'attuazione delle attività delegate dalla regione molise. Il decreto viene pubblicato a soli 11 giorni dalla scadenza del bando e precisa che non si intende porre in essere alcuna procedura concorsuale, neanche a dirlo e ad aprile 2016 si annuncia una prova selettiva a quiz con risposta multipla, seguita da una prova orale che l'Agenzia si riserva di poter espletare, a cui i 464 iscritti nell'elenco possono partecipare per formulare una graduatoria di merito per ciascuna area e per ciascun profilo. Appare oggettiva a questo punto l'anomala modalità di espletamento della selezione, che tra l'altro sembra non aver garantito il rispetto della regola fondamentale dell'anonimato delle procedure concorsuali. La graduatoria fornisce l'elenco di coloro che sono stati contrattualizzati per un anno rinnovabile e che percepiscono uno stipendio anno lordo compreso tra i 15.000 e i 25.000 euro. Si tratta di incarichi che hanno strettamente a che fare con il lavoro svolto dell'assessorato regionale all'agricoltura, tanto che non mancano assunti dell'agenzia già in servizio negli uffici dell'assessore. E nell'elenco sono presenti i nomi di diversi amministratori locali, molti dei quali riconducibili per vicinanza politica alla giunta regionale. Antonello Savino, vice sindaco di Gildone, Michelina Iannetta, assessora comunale di Boiano, Andrea Romano, primo cittadino di Spinete e neoconsigliere provinciale a Campobasso, Nicola Montagano, sindaco di Bonefro, Francesco Troilo, sindaco di Acquaviva con le Croce, Michele Di Bartolomeo, sindaco di Ripa Limosani e Saverio Nonno, vice sindaco di Fossalto. Tutti contrattualizzati dall'agenzia di Via Vico. Oltretutto si tratta di rappresentanti di comuni che possono essere richiedenti delle misure del PSR 2014-2020 a cui va aggiunto che tali comuni e per essi sindaci, vincitori del concorso dell'Arsap, fanno parte del galle e quindi titolari delle misure del PSR nonché addetti a valutarne i relativi progetti. Ora sarà la magistratura a valutare se sono stati commessi illeciti e la storia è tutta nelle mani del PM Nicola D'Angelo. E ora c'è la cronaca. C'è stata una tragedia intorno alle 8 del mattino a Venafro. Un'auto ha investito e ucciso lo scrittore Amerigo Iannacone mentre stava attraversando la strada. Grazie alle sue tante iniziative culturali era molto conosciuto in Molise e nelle regioni limitrofe ce ne parla Sergio Di Vincenzo. La cittadina di Venafro è sotto shock. La tragedia si è verificata a pochi passi dal Santissimo Rosario di Venafro. Da quanto si è appreso Amerigo Iannacone, 67 anni, originario della frazione Cepagna, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un Alfa Romeo 156 condotta da un pensionato di 78 anni residente in città. Lo ha visto solo all'ultimo momento e non ha fatto in tempo a frenare. Il parabrezza dell'auto in Frantumi rende chiara l'idea della violenza dell'impatto. La vittima è stata sbalzata per alcuni metri e purtroppo i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili. Il 67enne è morto sul colpo. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani e volontari della protezione civile. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti. Sulle cause dell'incidente indagano i militari dell'arma. Hanno effettuato una serie di rilievi, disposto a certamenti e ascoltato alcuni testimoni per ricostruire l'accaduto. Come da prassi si indaga per omicidio stradale. La notizia della morte di Amerigo Iannacone ha destato profonda commozione, non solo a Benafro. Era infatti molto conosciuto, grazie alle tante iniziative culturali che organizzava in tutto il Molise e nelle regioni vicine. Docente, giornalista e scrittore, coltivava in particolare la passione per la letteratura e la poesia. Era anche uno dei principali promotori dell'Esperanto, la lingua che si proponeva di diventare universale, ed era editore del mensile letterario Il Foglio Volante, mentre attraverso un'altra sua creatura, Edizioni Eva, era riuscito a valorizzare tanti promettenti scrittori, molisani e non. Parliamo ora dell'allarme bomba che ha paralizzato per un'intera mattina gran parte del centro di Campobasso. Una cassetta di legno è stata abbandonata lungo via Mazzini, a pochi metri dalla Curia e dalla caserma dei Carabinieri. L'intera zona è stata chiusa al traffico, gli artificieri arrivati da Chieti hanno aperto la cassetta che era poi completamente vuota. Solo allora la situazione è tornata alla normalità con la riapertura al traffico della strada. Il servizio è di Anna Maria Di Matteo, le immagini in esclusiva di Nicola Lanese. Mezza città paralizzata sin dalle prime ore del mattino per un'allarme bomba. Campobasso si sono vissute ore di apprensione per una scatola di legno, di quelle normalmente utilizzate per contenere le bottiglie di vino. È stata abbandonata sul marciapiedi della centralissima via Mazzini, a pochi metri dalla Curia e dalla caserma dei Carabinieri. Alcuni passanti insospettiti hanno chiamato le forze dell'ordine che sono subito arrivate sul posto, transennando l'intera zona. Il traffico è stato chiuso e interdetto alle auto o ai pedoni per quasi tutta via Mazzini, la strada che conduce al centro. Chiuse anche le traverse adiacenti. Nel frattempo gli abitanti dei palazzi circostanti sono stati invitati a rimanere nelle proprie case e a non affacciarsi sui balconi. I negozianti della zona sono stati invece costretti, per ragioni di sicurezza, ad abbassare le saracinesche e abbandonare di gran fretta le proprie attività tra non poche polemiche. Tutto bloccato in attesa dell'arrivo degli artificieri da Chieti che poi giunti sul posto hanno aperto la cassetta che era completamente vuota. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 13 quando la strada è stata riaperta al traffico. Insomma, tanto rumore per nulla. Dalla sua istituzione è passato un anno ma nessuno ha mai reso noti i risultati dell'attività svolta. Stiamo parlando dell'osservatorio sulla qualità dei servizi sanitari, la struttura per la quale la regione Molise ha stanziato la somma di 160 mila euro da spendere in due anni. L'incarico affidato al professor Giorgio Banchieri che costa ai molisani esattamente 5.122 euro al mese. Dell'attività svolta da quest'ultimo sui siti della regione non c'è traccia ce ne parla Pasquale Di Bello. Dalla sua istituzione è passato un anno ma su cosa faccia è un mistero fitto. Parliamo dell'osservatorio molisano sulla qualità dei servizi sanitari istituito a maggio 2016 dall'aggiunta Frattura ed entrato in funzione nel successivo mese di giugno. Le uniche cose note e certe al momento sono soltanto due, i 160 mila euro complessivi appostati dalla regione Molise per il periodo di due anni e i 5.122 euro che vanno mensilmente per le spettanze dell'incaricato in veste di direttore della misteriosissima struttura. Il professor Giorgio Banchieri proveniente da Roma è in passato collega di docenze dell'ex direttore generale della salute Marinella D'Innocenzo. La questione della quale ci siamo occupati più volte appare tuttora circondata da quelle nebbie fitte che sembrano avvolgere l'intero mondo della sanità molisana. Il compenso dal liquidare viene erogato al professore previa presentazione di un report sull'attività svolta, dicono questo le carte regionali. Poi però dalla regione si dimenticano ogni mese di rendere trasparente questo report pubblicandolo sui siti istituzionali rendendolo così noto ai cittadini. Del report in questione dopo un anno non v'è nessuna traccia pubblica. In un clima generale di tagli, sacrifici e ristrettezze, porsi la domanda su cosa faccia l'osservatorio e soprattutto cosa osservi, posto che ormai l'unica cosa da osservare sono le macerie lasciate dalla riforma frattura, è più che legittimo. Lo stesso presidente della regione, commissario ad acta, più volte sollecitato sul tema, continua a tacere, confermando l'ormai leggendaria fama da sonnifero pesante. Continua a tacere anche il nuovo direttore generale della salute, Lolita Gallo, a testimonianza di come le d'Innocenzo passino ma i silenzi permangano. Eppure la Gallo dovrebbe essere a conoscenza dell'attività dell'osservatorio, visto che lo scorso 7 luglio, con la determina 313, ha liquidato gli ennesimi 5.122 euro al professor Banchieri. Della vicenda si sono occupati a gennaio attraverso un accesso agli atti consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Sono passati sei mesi e tutto tace. Prima taceva Marinella e adesso tace Lolita, a testimonianza del fatto che i suonatori cambiano, ma la musica resta sempre la stessa. E tra i tanti disservizi e problemi che si verificano ormai quotidianamente all'interno degli ospedali molisani, ci sono anche quelli che riguardano la somministrazione dei pasti al Cardarelli. Le lamentele di molti pazienti riguardano il cibo e più in generale il servizio stesso gestito da una società di terni. Basso Molise in preallarme per la siccità. Molise Acque ha diramato una nota ai comuni per invitare i cittadini a un uso parsimonioso dell'acqua con l'assenza di pioggia. Già ormai da settimana il gran caldo si rischia di rimanere a secco con enormi disagi per cittadini e turisti. Le amministrazioni corrono ai ripari e all'Arino è stata già emessa un'ordinanza. Ci parla di tutto questo Manuela Iorio. Non piove ormai da settimana in basso Molise. L'invaso del Liscione scende di livello giorno dopo giorno e stando alle previsioni la situazione non migliorerà. Ecco perché Molise Acque è in preallarme e con una nota inviata alle varie amministrazioni e alle prefetture invita a non sprecare l'acqua proprio per evitare l'emergenza. Si consiglia di utilizzarla solo per l'alimentazione e per i servizi igienici, evitando di innaffiare giardini e piante sui balconi, di lavare automobili, cortili o riempire le piscine. Sarebbero comportamenti virtuosi da osservare tutto l'anno, spiegano nella nota, ma che adesso diventano indispensabili per evitare l'emergenza. Insomma, un comportamento più consapevole nella razionalizzazione dell'acqua ora, per evitare noiosi disagi dopo. I sindaci di Ururi e Palata hanno affidato a Facebook l'invito alla cittadinanza a un utilizzo intelligente dell'acqua. Il Comune di Larino ha invece messo proprio un'ordinanza per limitare gli usi improveri in questo periodo di caldo intenso. Nelle ultime ore in particolare sono stati segnalati disagi incontrati a monte e monti, dove addirittura durante la notte l'erogazione è stata interrotta. È per questo che il vice sindaco Maria Assunta Dermes ha anche chiesto alla protezione civile regionale l'invio di autobotti per fronteggiare la carenza in tutta la zona in aiuto alle aziende zootecniche. Allo stesso tempo è stato vietato di utilizzare l'acqua dell'acquedotto e delle fontane pubbliche per scopi non domestici, come lavare auto appunto o innaffiare orti e giardini. I trasgressori dovranno pagare una multa che va dai 50 ai 200 euro. E' un incendio di vaste proporzioni e divampato alle isole Tremiti. Le fiamme si sono propagate nella zona della Grotta del Sale. Una ventina di turisti sono stati tratti in salvo dai gommoni della Guardia Costiera e dei Carabinieri. Per spegnere il rogo è stato chiesto anche l'intervento del Canada e le persone che si trovavano a ridosso dell'area interessata dall'incendio sono state allontanate per motivi di sicurezza. Ora c'è l'ufficialità. Termoli sul lungomare nord torna il doppio senso di marcia. Il dirigente ai lavori pubblici ha firmato l'ordinanza. Bisogna solo attendere la sistemazione della nuova segnaletica. Allora sentiamo ancora Manuela Iorio. Ora è diventato ufficiale. Il doppio senso di marcia sul lungomare nord di Termoli verrà ripristinato a giorni. Potrebbe anche essere questione di ore. Tutto dipende da quanto tempo gli operai del Comune impiegheranno per sistemare la nuova segnaletica sia orizzontale che verticale. L'ordinanza che ripristina il doppio senso è stata firmata ieri dal dirigente ai lavori pubblici Gianfranco Bove e rimette le lancette indietro di quattro anni, quando il doppio senso già esisteva ed era stato modificato con la nuova riqualificazione del lungomare. Nell'ordinanza è fissato anche il limite massimo di velocità che è di 30 km orari. L'amministrazione guidata da Angelo Sbrocca già la scorsa estate aveva annunciato il ripristino del doppio senso ma poi si era scontrata con i numerosi problemi dovuti alla larghezza della carreggiata e alle norme imposte dal codice della strada. Tutti ostacoli che dopo molti mesi sono stati superati. La decisione del ritorno al doppio senso era stata presa anche in accordo con i proprietari dei liri che avevano lamentato numerosi disagi anche per le consegne agli stabilimenti. Il ritorno al passato è stato possibile però solo rinunciando ad almeno 55 posti auto che hanno dovuto lasciare lo spazio per la nuova carreggiata. I parcheggi a pagamento persi verranno recuperati nella nuova area di sosta di via Vespucci vicino alla torretta sul lato che costeggia la ferrovia. La CGL torna a lanciare l'allarme sui tagli organici del personale ATA. In Molise nel prossimo anno scolastico ci saranno 16 posti in meno contro i 78 a livello nazionale. In meno di 10 anni secondo il sindacato solo in Molise sono andati persi 500 posti di lavoro. una situazione preoccupante alla quale la CGL chiede venga posto immediatamente rimedio. E' stato presentato questa mattina il comitato molisano caduti per la pace che porta il nome del caporale maggiore scelto Alessandro Di Lisio e la presidente è Dora Pinelli mamma del giovane paracadutista ucciso otto anni fa a Kabul e c'era per noi Cristina Nero. L'associazione e comitato molisano caduti per la pace caporal maggiore scelto guastatore e paracadutista Alessandro Di Lisio si è presentata questa mattina agli organi di informazione alle autorità e ai cittadini. Il comitato è stato fondato il 3 aprile scorso da 12 soci fondatori tra cui Luigi Calabrese, Gennaro Ciccaglione, Luigi Pasqualone, Michele Sansone e Don Gabriele Teti. Nominata per acclamazione la presidente Dora Pinelli mamma del giovane caporale Alessandro Di Lisio. Le nostre iniziative immediate sono questa che è la presentazione, poi ci sarà dopo domani che è l'ottavo anno che ricorre la sua caduta in Afghanistan. Maggiormente poi riconsiderare certi valori che io nei giovani di oggi non vedo. Purtroppo sono molto attratti dal Diodanaro, dai telefonini, ma certi valori che bisogna avere per l'amor patrio. L'educazione civica una volta sì, ma questo non deve essere un mio intento. Io dico propagandare questo nelle scuole sicuramente, però anche attività di altro genere, che devo dire, occuparsi anche di persone bisognose. L'associazione è nata per operare per la cooperazione, la distensione e la difesa della pace intende promuovere attività di carattere sociale e civile, considerando, in termini validamente costruttivi, la portata dei valori morali ed ideali sui quali si fonda. Ma se non altro per solleticare un po' le istituzioni, che io ultimamente, perdonatemi, ultimamente, insomma, e da parecchio, soprattutto nel Molise, che insomma, onestamente non vedo un riconoscimento dovuto, ma non perché sono il papà di Alessandro Di Lisio, per tutti coloro che ci stanno dando questo benessere, questa tranquillità, questa strada sicura, parliamo di strada sicura, chi è che sta combattendo? Carabinieri stanno combattendo per le strade, chiaramente. Io non dico combattere è un po' improprio, però io lo ritengo un vocabolo giusto. Obiettivo dell'associazione è dunque anche quello di contribuire alla formazione e al rafforzamento della coscienza civile e democratica, soprattutto nelle nuove generazioni, sostenendo dei valori morali delle istituzioni democratiche, che la reggono nonché partecipando alla risoluzione dei problemi sociali. Tutto questo poteva farlo un papà o una mamma che ha perso un figlio in missione di pace, come nel vostro caso. Questi anni, senza Alessandro, che cosa hanno rappresentato, cosa lasciano giorno per giorno? Ma Alessandro, allora, a me una volta mi fu chiesto dopo quattro anni se piangeva ancora la morte di mio figlio. Io, come ho detto il primo giorno che sono andato a Roma a ricevere la sua salma, dico la verità, ho detto ogni giorno che passa sarà sempre peggio ed è così. Lascia un voto incolmabile e manca perché l'innaturalezza di questi episodi, di tutti gli episodi successi di un figlio che viene meno, è naturale. L'età, l'anagrafe non si può mettere da parte. Un figlio non può seppellire un genitore. O c'è un genitore non può seppellire un figlio. Tutto pronto a Oratino per la quarta edizione del Festival della giovane canzone d'autore dedicata a Ugo Calise e Valeria Farina. È la musica che incontra il territorio in una cornice che sa di storia, di suggestione e di affezione verso chi, con il talento, portò in alto il nome del proprio paese. A Oratino è tutto pronto per la quarta edizione del Festival della giovane canzone d'autore dedicata ad Ugo Calise. Siamo giunti alla quarta edizione, è un bel risultato che speriamo di poter riproporre anche negli anni futuri, grazie alla collaborazione della Regione Molise, delle associazioni presenti sul territorio, la Giovannitti e la Prologo di Oratino, quindi è un evento in cui crediamo molto e che ci permette di ricordare Ugo Calise, questa figura straordinaria di cantautore degli anni 50 e 60 e ci permette anche di valorizzare i nuovi cantatori, quelli emergenti, appartenenti a una scuola cantatoriale del Mezzogiorno. La Kermes musicale in programma dal 14 al 16 luglio è stata organizzata dall'amministrazione comunale insieme alla Prologo, alla Regione e all'Associazione Culturale Arturo Giovannitti. Stiamo migliorando ogni anno per tutta l'organizzazione e questo ci risulta molto importante. Noi abbiamo visto su questo festival sia per richiamare la figura di Ugo Calise, ma sia per attirare comunque turisti, persone. Una tre giorni in cui i giovani cantautori si esibiranno con pezzi inediti davanti ad una giuria popolare e di esperti. Le esibizioni si svolgeranno tutte le sere a partire dalle 21 e 30 in tre luoghi suggestivi del paese, Piazza Olmicello, Piede il Castello e il Belvedere Calise. Ci sono artisti quest'anno che partecipano da un po' da tutta Italia, un paio sono molisani dal nord, dal Reggio Emilia, dalla Sicilia, insomma un bel concorso che metterà di fronte questi artisti che hanno tutto da proporre e che si spera facciano passare una delle piacevoli serate al pubblico che parteciperà, credo numeroso. Le premiazioni sono in programma per domenica 16 luglio a Doratino e un appendice ad ottobre al Teatro Bellini di Napoli. Durante la tre giorni nel paese non solo musica ma anche stand con cibo e prodotti tipici locali. Questa mattina presso la sede di Liberal Luna Onlus è stata firmata l'intesa per il progetto In Rete contro la violenza sulle donne, finanziato dal Ministero per rafforzare la rete dei servizi sul territorio. Sentiamo ancora Cristina Nero. Si è tenuta questa mattina presso la sede del centro antiviolenza Libera Luna in via Conterosso a Campobasso la stipula del protocollo di intesa del progetto In Rete contro la violenza sulle donne relativo al potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali. Si tratta del progetto riconosciuto a livello nazionale grazie al finanziamento del Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che su 163 progetti presentati ha finanziato 66 iniziative di cui quella molisana assestatasi nella 56esima posizione. Oltre alla stipula delle intese l'incontro è stato anche un momento formativo finalizzato alla creazione di una rete stabile sul territorio molisano per rafforzare i servizi di aiuto sia alle donne vittime di violenza sia ai loro figli. Per la prima volta nella regione molise infatti sarà attivato l'osservatorio finalizzato a monitorare il fenomeno della violenza di genere, osservatorio che risponde proprio alla necessità di analizzare, monitorare e promuovere iniziative finalizzate al contrasto del fenomeno della violenza di genere in regione. L'incontro è stato un momento di condivisione con le tante realtà coinvolte, un modus operandi e dunque un piano di azione comune a tutela delle donne vittime di abusi. Infatti solo la condivisione di un unico percorso tra i vari soggetti presenti sul territorio può condurre al raggiungimento degli obiettivi progettuali che rappresentano tra l'altro proprio la tutela di persone deboli in quanto vittime di violenza sia economiche, psicologiche e fisiche. E ora andiamo a Bagnoli del Trigno per la cerimonia inaugurale della sede dell'Associazione Caccia Pesca Ambiente. Il servizio è di Sergio Di Vincenzo. Con l'apertura di una sede ufficiale a Bagnoli del Trigno mette radici anche in Molise l'Associazione Caccia Pesca Ambiente, nata non solo per tutelare i diritti degli iscritti ma anche per far rispettare ogni azione che mira la salvaguardia ecologica e ambientale e per valorizzare e promuovere il patrimonio naturalistico del territorio di riferimento. Tra gli obiettivi è anche quello di collaborare con le autorità per la disciplina dell'attività venatoria. All'inaugurazione è intervenuto anche Alessandro Fiumani, presidente nazionale CPA. Il fatto di aprire un'altra sezione a livello associativo non è solo mettere l'ennesima bandierina ma è allargare la famiglia ad un gruppo di amici e avere la possibilità sempre più concreta di portare avanti le nostre idee, le nostre bandiere che sono quelle un po' i desiderata dei cacciatori, non solo molisani. La libera circolazione del cacciatore sul territorio, la depenalizzazione di alcuni reati venatori. Alla cerimonia hanno partecipato anche il vicepresidente Martino Santoro e Francesco Delrico, componente dell'esecutivo nazionale. Entrambi hanno voluto rimarcare il ruolo dell'associazione sul fronte della tutela del territorio. Si accusava il cacciatore di essere una persona che magari andava a distruggere quello che sta nell'ambiente, invece non è così. Fa anche funzioni di sele controllore, quindi fa parte, sin da quando è nato l'uomo, fa parte appunto di un certo ecosistema. Queste iniziative non possono che far bene al mondo venatorio, che non va visto semplicemente come un momento di abbattimento del selvatico, ma va visto come una presenza costante sul territorio, una presenza a tutela dell'ambiente, una presenza a tutela anche e soprattutto della selvaggina e delle nostre tradizioni rurali. Presidente della sezione di Bagnoli, la prima nel Molise, è stato nominato Danilo Marchesani. Siamo pronti ad accogliere qualsiasi tipo di richiesta, di proposta, soprattutto per migliorare questo territorio e noi non faremo altro che sicuramente far rispettare le regole che alcune volte vengono meno. Faremo sicuramente da tramite, saremo quel collante tra cittadino, cacciatore, con gli enti che comunque gestiscono queste materie e trasmetteremo loro tutte le problematiche e le migliorie che saremo in grado di poter dare loro come consiglio. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Buonanotte.